Questo è il gruppo degli allievi di Mr. Gabriele, stanno facendo le pressioni, però c'è qualcuno che fa la vaccarella, il gruppo degli allievi di Mr. Gabriele, ancora non vedo le pressioni però, ancora non vedo le pressioni. Oh che manca, Michele, è due volte che manca, capace. Senti che squadra che c'ho, allora andiamo su con le spalle, braccia tese, ma chi stai riprendendo? Facciamo finta che abbiamo una bellissima donna sotto di noi e cerchiamo di affondarla. Andiamo su con le spalle guerrieri, braccia tese, spalle belle dritte, sulle punte, via, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, via, giù, grandi. Hai capito il giocare come funziona? Sì sì. Siamo grandi siamo e stiamo solo all'inizio. E questo non è niente, a Natale. Ce le facciamo tutte, le squadre. Possono anche strappare i manifesti, ma in campo strappiamo noi. No, gli strappiamo le mutande. In campo, è vero. Andiamo di nuovo su l'ultima volta. Adesso quindici, braccia tese, guardate a me, ecco, guardate l'obiettivo, guardate l'obiettivo, so, guarda il mister come lo fa. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, giù. Restate giù, restate giù. Restate giù. Restate giù e respirate. Restate giù e respirate. Alessio, dove sta Alessio? Alessio ce l'ho qui, guarda, vicino a Lene. Ah, sta là. Non ce la farà mai. Lui ci sta provando, capito? Dice, devo rubare tutte le donne di Lene. È una parola. Stanno organizzando, dalla prima gara ufficiale ci saranno anche le ragazze pompone, con la divisa giallorossa. Se ce ne manca uno, già lo so chi lo può fare in mezzo a noi. Michele. Michele, bravo, vedi come cazzo. Sciogliamo, 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 andiamo su piano piano. Andiamo su piano piano, piano piano, ci alziamo, ci alziamo e facciamo questo movimento qua subito. Gamba destra, destro, braccio sinistro dietro la spalla. Ok? Bene, facciamolo bene. Al cambio facciamo un piccolo saltellino. Sciolti, andiamo su. Sciolti, sciolti.